signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale il titolo lo avete visto quindi immagino sia legittima la domanda avrai già fatto tre video sull'argomento allineamento è veramente necessario farne un quarto sì c'è effettivamente bisogno di un quarto video e anche di un quinto perché l'allineamento è una di quelle cose complicate all'interno del gioco che vanno a creare un sacco di attrito tra il master e i giocatori se non è gestito al meglio il principale motivo di questi attriti è che si è naturalmente spinti a interpretare l'allineamento morale come qualcosa che abbia effettivamente un valore morale ma in realtà se guardate l'allineamento per come è spiegato e per come concepito all'interno dei giochi non è assolutamente questa la situazione l'allineamento è fisica su che cosa sia l'allineamento quali siano i suoi assi quali siano le differenze tra un allineamento e l'altro ne abbiamo già parlato in una serie di video due anni fa ve li lascio linkati qua in alto se non li avete visti andiamo a rivedere non sto a ripetere il discorso che questi video saranno già lunghi in questo video andiamo a concentrarsi su quale sia la corretta gestione dell'allineamento all'interno del gioco il bene il male la legge il caos all'interno del gioco funzionano come delle peculiarità fisiche che vanno influenzare gli esseri intelligenti il loro funzionamento non è molto diverso da quello che potrebbe essere la forza di gravità o l'elettromagnetismo sono delle forze che agiscono sulle persone forse il modo migliore per rappresentare gli assi di allineamento e quello di paragonarli agli stati della materia prendiamo dell'acqua a una temperatura che va dagli 0 ai 100 gradi l'acqua esiste in forma liquida e acqua se io abbasso la temperatura sotto lo zero l'acqua diventerà solida diventerà ghiaccio se invece porto la temperatura sopra i 100 gradi l'acqua bollerà e diventerà vapore ovviamente nessuno imputerebbe un valore morale alla temperatura il caldo non è moralmente preferibile al freddo né viceversa e a seconda della situazione io potrei volere l'acqua a temperatura ambiente per farmi la doccia il ghiaccio da mettere dentro il mio cocktail e il vapore per far funzionare la mia locomotiva allo stesso modo ogni azione di un personaggio lo spingerà verso l'estremo di uno degli assi se le azioni di questo personaggio saranno in equilibrio tra di loro sarà neutrale se il personaggio comincerà a compiere atti allineati diciamo e comincerà ad aiutare il suo prossimo in maniera disinteressata che è considerata un'azione allineata al bene allora il personaggio comincerà a spostarsi lungo l'asse fino a diventare buono se però cominciasse a compiere azioni malvagie ricomincerà a muoversi lungo l'asse ritornando neutrale e poi diventando malvagio in pratica è come se ogni azione che il personaggio compie all'interno del gioco vada ad alzare o abbassare la sua temperatura e alla lunga questo potrebbe portarlo a cambiare di stato anche se l'allineamento di per sé non ha un valore morale ovviamente le creature senzienti all'interno del gioco che ne sono influenzate gliene andranno ad attribuire uno di conseguenza una creatura potrebbe scegliere volontariamente di agire in un determinato modo per raggiungere o mantenere uno specifico allineamento in base alle proprie preferenze personali o al proprio interesse personale un personaggio che ritiene il bene superiore al male cercherà sempre di agire secondo i dettami del bene aiutando in maniera disinteressata e molto probabilmente cercherà di propagare più bene possibile convincendo altre persone a compiere buone azioni e mantenere un allineamento buono esattamente come una persona che per motivi personali preferisca il freddo cercherà di convincere gli altri ad abbassare la temperatura allo stesso modo in cui è semplicemente la variazione della temperatura a cambiare lo stato dell'acqua e non il motivo per cui la temperatura si è alzata sono solo le azioni di un personaggio a influenzare un allineamento e non le motivazioni che sono dietro quelle azioni quando un personaggio esegue un'azione se quell'azione è allineata con uno dei quattro poteri principali il suo allineamento si sposterà di conseguenza questo non vuol dire che il personaggio cambi allineamento la maggior parte delle azioni è semplicemente troppo poco significativa anche solo per causare uno spostamento dell'allineamento apprezzabile quello che voglio sottolineare che bisogna tenere sempre a mente perché è la cosa che è più facile da sbagliare è che le motivazioni che stanno dietro all'atto non sono mai influenti sull'azione vera e propria allo stesso modo per cui l'acqua bolle sia che la metta sul fornello sia che io abbia incidentalmente dato fuoco alla casa e alzato la temperatura così allo stesso modo se io facessi l'elemosina a un mendicante quello sarebbe un atto buono perché ho causato un danno a me per favorire un altro se io abbia fatto l'elemosina perché veramente mosso a compassione dal mendicante o semplicemente perché volevo fare lo splendido e far vedere che avevo i soldi o il mendicante mi dava fastidio e quello era il modo più veloce per toglierlo di torno non è importante ai fini del fatto che questa sia una buona azione tenere a mente questo principio cioè che l'allineamento non ha un valore morale di per sé ma funziona come una legge fisica è molto importante quando si va a fare il master voglio tenere questi video di teoria stringati perché potrebbero servire come consultazione quindi questo video per oggi finisce qui ma ci ritorneremo su tra due settimane andando a vedere nella pratica come gestire l'allineamento durante una situazione di gioco fino ad allora ovviamente come sempre voglio sapere voi cosa ne pensate se questa cosa che l'allineamento non fosse un valore morale era già chiara se non ci avevate mai riflettuto se voi gestite nelle vostre quest la cosa in maniera diversa fatemelo come sempre sapere nei commenti qui sotto se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale schiacciate il tasto della campanella se non volete perdervi le notifiche dei prossimi video io sono il master CAE noi ci vediamo al prossimo video